esiste qualcosa oltre la morte devo dire che questo è probabilmente uno dei quesiti più diffusi sicuramente anche voi almeno una volta nella vita vi sarete chiesti cosa c'è dopo la morte che cosa sperimenteremo dopo essere morti o comunque che cosa hanno sperimentato i nostri cari nel momento della loro dipartita devo dirvi che nell'ultimo periodo a me capita spesso di farmi queste domande di pormi questi quesiti anche perché come vi ho già detto e sicuramente saprete già io ho perso mio papà nel maggio del 2024 e questa è una perdita che mi ha segnato nel profondo e probabilmente qui si parla proprio di una ferita che mi porterò fino alla fine dei miei giorni perché con mio padre avevo un rapporto meraviglioso e quindi a volte quando penso a lui mi piace immaginare mio padre in un luogo comunque mi piace pensare che occupi in questo momento una dimensione in cui regna la serenità una serenità che lui non ha potuto vivere appieno in questo nostro mondo materiale proprio a causa della sua malattia quindi a volte mi piace pensare a lui che cammina con le sue gambe visto che mio padre era anche amputato e spero che insomma stia bene questa è una tematica che mi tocca ogni volta mi riprometto di non avere questo tipo di reazioni però è più forte di me ogni volta che parlo di mio padre mi esce diciamo così una emergono una valanga di ricordi proprio in modo istantaneo non ce la faccio trattenermi ma comunque oggi sono qui per parlarvi delle cosiddette esperienze di premorte voglio condividere con voi l'esperienza di premorte che ha avuto una donna di vancouver nel 2021 ma prima di cominciare volevo un po soffermarmi su queste esperienze di premorte su quello che potrebbero essere in realtà ora sulle esperienze di premorte ci sono tanti diciamo tante persone che la pensano in modo diverso ci sono persone che dicono che effettivamente le esperienze di premorte sono delle esperienze reali cioè che realmente la persona che le vive sperimenta quello che c'è dopo la morte mentre altri fondamentalmente dicono che le esperienze di premorte sono semplicemente un costrutto del nostro cervello che ancora non ha smesso di funzionare e che quindi ci fa vedere un po quello che noi vorremmo vedere io mi ricordo che quando mio papà stava per morire parlava a modo suo con delle persone proprio si rivolgeva a delle persone tu lo vedevi che parlava letteralmente con delle persone solo che quando guardavi nella direzione in cui guardava mio padre vedevi il vuoto lì non c'era nessuno era come se parlasse con sua mamma con suo papà con i suoi amici cioè mio padre proprio ragionava con loro diceva ma che cosa stati dicendo no no assolutamente continuava a ripetere quindi ricordo questa scena e mi piace pensare che lui magari in quegli attimi abbia effettivamente visto delle persone che ha amato no in vita e che comunque sono morte prima di lui non lo so potrebbe anche essere comunque tutto un costrutto del nostro cervello che in quegli attimi di completa confusione perché comunque nel caso di mio papà beh lui diciamo così prendeva dei farmaci molto molto forti purtroppo io credo fermamente che mio padre me l'abbiano levato di mezzo me l'abbia levato di mezzo proprio la mala sanità mio padre è deceduto a brindisi per quanto mi riguarda per esperienza personale quello è uno degli ospedali peggiori in assoluto a parte questo perché ne ho sentite tante di storie di storie di persone che sono entrate lì e sono uscite sì ma nella bara come nel caso di mio padre quindi perdita di cartelle mediche ragazzi vi potrei davvero raccontare una storia dell'orrore vera in ogni caso appunto vedevamo mio padre che parlava con delle persone che noi non riuscivamo a vedere quindi probabilmente lì c'era davvero qualcuno o forse era semplicemente frutto della mente di mio papà che stanco non so avrà visto un qualcosa che in realtà non c'era bisogna anche fare un discorso a parte sui farmaci molti farmaci potrebbero anche causare delle allucinazioni ovviamente a me piace pensare che mio padre in quel momento abbia visto dei volti familiari però non sono una ragazza incosciente sono una persona che rimane con i piedi per terra e credo anche che i farmaci abbiano potuto diciamo così fare gran parte del lavoro e credo che molte esperienze di premorte non siano reali io credo che molte esperienze di premorte non siano reali perché credo che appunto il cervello sia molto importante in questo anche perché fateci caso tutte le persone che raccontano di aver avuto queste esperienze di premorte fondamentalmente ci raccontano delle storie diverse per esempio ci sono persone che ci raccontano di aver visto l'inferno delle creature infernali altre persone ci raccontano di aver raggiunto dei luoghi misteriosi mai visti sulla terra in cui hanno proprio avuto dei contatti con degli esseri molto molto più elevati dal punto di vista animico comunque spirituale ci sono altre persone che dicono semplicemente di aver raggiunto un luogo di pace in cui hanno incontrato nuovamente tutti i parenti precedentemente appunto morti ci sono tante versioni di queste esperienze no di premorte quindi questo mi fa credere che ognuno vive la propria esperienza di premorte a seconda delle proprie credenze anche ci sono anche persone per esempio scusatemi la ripetizione dell'anche che hanno per esempio dichiarato di aver Gesù chi ha dichiarato di aver visto la madonna dio gli angeli eccetera eccetera quindi penso che ognuno o meglio le persone che hanno vissuto queste esperienze di premorte credo che le abbiano vissute anche un po in base alle loro credenze alle loro speranze ok perché se ci fosse davvero un luogo comune in cui vanno le anime per così dire probabilmente questo luogo dovrebbe essere simile uguale per tutti o forse se non tutti andiamo nello stesso luogo a seconda del grado di evoluzione chissà ragazzi chissà cosa conta chissà dove si va ovviamente non non credo alla visione di paradiso inferno purgatorio questa visione un po dantesca onestamente non ci credo ma potrebbe anche essere io sono una persona che diciamo ad istinto può non credere in una determinata cosa però lascio sempre le porte aperte quindi che cosa c'è dopo la morte voi per esempio avete mai avuto un'esperienza di premorte se sì se vi va comunque di condividerla anche con altri potete sempre farlo sotto nei commenti ma adesso torniamo alla nostra storia che cosa è accaduto a questa donna ecco ve lo racconto subito nel 2021 una donna di 43 anni di nome amber kavanagh è stata trasportata d'urgenza in ospedale in elicottero dopo aver avuto due ictus la donna nel corso del tragitto comunque ha cominciato a perdere conoscenza ma non del tutto diciamo che ha cominciato un po a perdere il contatto con questa realtà ma non del tutto perché anche se era apparentemente priva di sensi lei sentiva tutto quello che accadeva intorno comunque al suo corpo per esempio ha sentito le infermiere che dicevano i suoi figli e a suo marito che molto probabilmente lei non ce l'avrebbe fatta e ad un certo punto lei racconta di aver provato ad aprire gli occhi per guardare per poter guardare il sole un'ultima volta questa frase mi tocca non lo so nel profondo per qualche motivo il fatto di aprire gli occhi e guardare il sole per l'ultima volta forse perché mi apre delle ferite mamma mia mi metto sempre nei casini io mi metto veramente sempre nei casini potrei non parlare di queste storie ma sono così belle danno speranze quindi voglio parlarne ma ho una ferita talmente tanto fresca che mi perdonerete comunque lei dice appunto di aver provato ad aprire gli occhi per guardare per l'ultima volta il sole perché dopo tutto quello che sentiva in questo suo apparente stato di incoscienza ecco si faceva sempre più convinta del fatto che probabilmente lei sarebbe morta e che quindi non avrebbe realmente mai più rivisto nei suoi figli nel suo marito all'inizio la donna cominciò a vedere se stessa mentre fluttuava sopra il suo corpo vide suo marito piangere su di lei e allo stesso tempo vide anche i suoi figli e i suoi genitori che appunto venivano a trovarle in ospedale nei giorni seguenti non c'era una luce brillante la donna non vide alcun tunnel lei semplicemente rimase appesa al suo posto osservando quello che accadeva sotto di lei ancora legata al suo corpo in un certo senso era come lei descrive che era come se ci fosse un filo invisibile che ancora collegava lei al suo corpo ok quindi non riusciva all'inizio a andare via ok a lasciare quella stanza e andare altrove era sì in alto ma sempre legata al suo corpo e ovviamente vedeva dall'alto tutto quello che accadeva tutte le visite che riceveva tutto quello che i parenti le dicevano e questo mi fa tanto riflettere anche sulle persone che sono in coma quando per esempio i medici dicono ai parenti delle persone che sono in coma di continuare a parlare di continuare a raccontare di far ascoltare la musica a queste persone perché c'è una parte di loro che comunque in un corpo così dormiente rimane ancora accesa rimane ancora cosciente ma tornando alla storia di ember la donna ci dice ad un certo punto di essere stata spinta verso un'altra dimensione lei ad un certo punto si è ritrovata completamente in un'altra dimensione dove dice di aver visto la versione migliore di se stessa ci racconta che in quest'altra dimensione non esistevano domande come per esempio perché dove quando come in che modo no assolutamente no lei ci racconta di essersi sentita in quell'occasione consapevole di tutto era come se non servisse più porsi alcun quesito lei sapeva tutto era come se si fosse riunita a quella consapevolezza unica di cui tutti quanti noi facciamo parte si ritrovò in un bellissimo giardino dove poteva sentire l'erba sotto i suoi piedi ember comunicò mentalmente perfino con i suoi parenti defunti sì perché la donna dice di aver visto lì intorno a sé i suoi parenti defunti tra cui la nonna e la bisnonna che notò in modo particolare e provò addirittura conforto lei parla di un assoluto conforto un conforto che non si potrebbe nemmeno spiegare a parole in loro presenza quindi si sentiva davvero molto molto serena tranquilla in pace e ci racconta che appunto in questo giardino l'unica cosa che lei riusciva a percepire con con molta forza era l'amore ma un amore incontaminato un po' come quello che una mamma prova nei confronti dei propri figli inoltre la donna ci dice anche di avere avuto delle visioni alla sua destra le vedeva i suoi parenti tutti i parenti che aveva perduto e ogni versione di se stessa la sua versione passata la sua versione presente e anche la sua versione futura e anche delle guide delle guide spirituali che in quel momento erano proprio davanti a lei ecco e anche qui apro un attimo la parentesi perché questa sarà una tematica di cui vi parlerò in uno dei prossimi video voi credete alle guide spirituali credete che ci sia realmente qualcuno qualcosa vicino a noi che in molti momenti ci aiuta ad affrontare determinate situazioni fatemelo sapere in ogni caso lei ci dice che ha potuto parlare telepaticamente con tutti compresa la nonna e la sua bisnonna e provava in tutto questo una sensazione quasi viscerale di puro confronto ma che cosa accade che ad un certo punto le dissero che si trovava di fronte ad una decisione difficile doveva prendere una decisione difficile avrebbe potuto rimanere in quel luogo tranquillo solo se fosse stata disposta a lasciare i suoi figli amber sapeva che comunque restare avrebbe significato la morte del suo corpo computer biologico nel mondo reale nel mondo diciamo materiale perché poi chi siamo noi per definire il mondo in cui noi ci ritroviamo a vivere questa esperienza in forma umana come il mondo reale potrebbe questo mondo invece essere una completa simulazione quindi potrebbe in realtà non rispecchiare quella che è la concezione di realtà quindi mi piace più parlare di mondo materiale ok quindi lei sapeva che continuando in quell'esperienza sarebbe poi fondamentalmente morta e la sua famiglia ne avrebbe ovviamente sofferto ma tornare significava anche rientrare nel suo corpo malato e comunque superare diciamo così una convalescenza estenuante perché la donna fisicamente insomma non ne poteva più stava soffrendo stava molto molto male alla fine si rese conto che la sua famiglia sarebbe stata anche bene senza di lei anche se non era ancora pronta a morire e dopo aver pensato questo chiuse gli occhi e quando li riaprì era di nuovo nel suo corpo amber trascorse le due settimane successive in ospedale le sue condizioni erano critiche i dottori cominciarono comunque anche qui ad avvertire la sua famiglia del fatto che probabilmente la donna non ce l'avrebbe fatta e poi incredibilmente ed inaspettatamente amber cominciò a riprendersi cominciò a muoversi cominciò a parlare e pensate che addirittura un medico del reparto cominciò a chiamarla la mia cara paziente miracolata insomma tutti erano sorpresi non c'era una spiegazione logica non c'era una spiegazione medica potesse giustificare questo recupero repentino da parte di amber e mi emoziona questo sapete perché perché quando la donna sempre che questa esperienza sia reale ovviamente ma quando la donna ha cominciato a pensare non sono pronta a morire ma dall'altra parte purtroppo diciamo così sono triste a rientrare in un corpo computer biologico sofferente è come se qualcuno l'avesse ascoltato è come se qualcuno avesse ascoltato il suo bisogno e avesse un po accelerato i tempi di ripresa della donna mi piace pensare che sia andata così che qualcuno l'abbia aiutata ma del resto anche il nostro stesso corpo computer biologico il nostro corpo fisico è un mistero ancora oggi per tanti scienziati ma comunque mi piace pensare che qualcuno abbia ascoltato la sua richiesta e le abbia alleggerito il tutto la donna ci dice che nel reparto veniva chiamata la paziente miracolata non soltanto perché aveva cominciato a riprendersi in modo così repentino ma anche perché i medici avevano in realtà programmato un intervento molto delicato da fare proprio su di lei eppure ad un certo punto hanno annullato tutto perché non c'era più bisogno di operare amber amber stava bene e poteva anche fare a meno di questo intervento che era comunque un intervento molto pesante e si sarebbe pure potuto rivelare fatale amber comunque diciamo che nonostante la ripresa ha dovuto imparare per esempio nuovamente a camminare e anche a mangiare e la sua famiglia ha sopportato il dolore di vederla lottare la sua ripresa ha richiesto circa dieci settimane ma adesso la donna dice comunque di non avere più paura della morte e di non avere più paura di attraversare l'altra sponda quando sarà comunque il suo momento quando arriverà diciamo così il suo momento definitivo l'unica sua paura è proprio quella di non poter più ritornare in quel luogo e questo è anche un punto che mi fa tanto riflettere e diciamo crea conforto no perché tantissime persone hanno paura della morte proprio perché la morte per noi è un incognito è un mistero non sappiamo cosa c'è ok però dall'altra parte tutte le persone che dicono di aver sperimentato quasi tutte le persone che dicono di aver sperimentato delle esperienze di premorte dicono che appunto la loro paura più grande è quella di non poter tornare in quel luogo e addirittura queste persone dicono di non avere più paura della morte perché sanno che dopo la morte del corpo computer biologico c'è dell'altro e mi stupisce anche molto spesso i ragionamenti che queste persone fanno nel momento in cui giungono in questi luoghi molto spesso si parla anche di mamme mamme che nonostante l'amore che le lega ai propri figli sono quasi nel dubbio si creano quasi il dubbio che faccio resto in questo luogo o ritorno dai miei figli quindi l'amore la serenità la pace che si percepiscono probabilmente in questi luoghi superano di gran lunga qualsiasi cosa purtroppo che cosa accade che dato che la morte è un fatto ancora misterioso o meglio il quello che c'è dopo è comunque un mistero chi soffre siamo noi che rimaniamo qui siamo noi che ci poniamo continuamente quei siti su dove queste persone potrebbero essere ci fa male non vederle più a me fa tantissimo male non poter più chiamare mio papà mi si crea un nodo alla gola quando sento gli altri chiamare il proprio papà mi manca la sua voce mi manca tutto di lui il suo sorriso tutto il suo modo anche di lottare perché io se sono diventata quella che sono e anche perché ho avuto diciamo una un vero e proprio guerriero ok perché mio padre era un vero e proprio guerriero e quindi chi soffre fondamentalmente siamo noi magari loro sono felici adesso lì dove si trovano perché si sentono liberati anche dai loro problemi riguardanti malattie eccetera eccetera quindi oggi ho voluto raccontarvi la storia di questa donna anche per dare speranza a tutti coloro che hanno perso una persona cara per raccontarvi qualcosa di bello che potrebbe effettivamente esserci nell'aldilà e ve l'ho raccontata anche perché è molto interessante perché al di là di tutto queste storie sono molto interessanti infatti amber ci dice che nonostante la sua malattia nonostante comunque le difficoltà lei adesso è in pace e comunque vivrà ci dice che appunto vivrà la sua vita in modo del tutto diverso perché adesso ha capito ha capito tante cose quindi non perderà di certo tempo ad arrovellarsi il cervello in situazioni inutili che cosa ne pensate della storia di amber che cosa ne pensate dell'aldilà di queste esperienze di premorte pensate che siano reali o pensate che possano anche essere frutto del nostro cervello che le interpreta a modo proprio insomma mi scuso ancora con voi per aver avuto un po dei momenti di sconforto in questo video mi riprometto sempre di essere forte però appena poi parlo di mio padre mi sale un qualcosa dentro che non riesco a controllare come in questo momento quindi cambio discorso sicuramente chi ha perso un padre che ha perso una madre che ha perso un genitore che ha perso un figlio può anche se il dolore della perdita di un figlio io non lo voglio nemmeno immaginare ma questo mio dolore lo so che molti di voi lo comprendono e quindi so di non essere sola ok in questo dolore io ragazzi spero di avervi tenuto compagnia non sono triste ok ci tengo a precisarlo non voglio che questo che questo video lo prendiate come un video triste perché non è assolutamente così semplicemente non si possono sempre controllare le emozioni io in ogni caso spero di avervi tenuto compagnia con questa storia spero di non avervi annoiati aspetto di leggere i vostri commenti giù sotto questo video ovviamente vi auguro un buon proseguimento e mi raccomando se i miei contenuti vi piacciono vi chiedo di condividerli e come sempre vi aspetto qui sul canale perché arriveranno tantissimi nuovi video per tenervi compagnia alla prossima